Festino a base di alcol ed eroina con un 63enne ridotto in fin di vita, episodio per il quale i carabinieri di Mestre hanno denunciato un uomo di Mirano per lesioni personali gravi e omissione di soccorso e un altro amico per quest'ultimo reato. Fatto registrato nella notte tra sabato e domenica scorsi, dopo che una telefonata al 118 ha portato al soccorso dell'uomo trovato privo di sensi sul sedile posteriore della sua auto, parcheggiata poco distante da casa sua a Mirano. I carabinieri hanno ascoltato la donna che ha chiamato i soccorsi, ricostruendo quanto accaduto soltanto poche ore prima, quando il 63enne, ancora in situazione di criticità, aveva organizzato il festino a base di droga e alcol insieme ad un amico, che dopo essersi reso conto del malore a carico del 63enne, invece di chiamare i soccorsi, aveva contattato due amici, uno dei quali, la donna, resersi conto della gravità della situazione, ha pensato giustamente di fare riferimento ai soccorsi con il 118.